Musica Buonasera, bentrovati con l'appuntamento dell'informazione del Tg Max. Il governatore D'Alfonso incontra i sindaci del Bastese e propone un parco marino invece del parco della costa Tiatina. Lo riferisce al Tg Max il sindaco di San Salvo Tiziana, Magnacca. Ancora in attesa di risposte da parte del Presidente della Repubblica che si accinge a firmare il decreto sull'istituzione del parco della costa Tiatina e al quale tutti i sindaci dei comuni interessati dal parco hanno inviato un documento congiunto per chiedere di rivedere la contestatissima perimetrazione elaborata dal commissario d'acta Pino De Dominicis, arriva un'apertura da parte del governatore della regione Abruzzo. Luciano D'Alfonso, riferisce al Tg Max il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca, ha incontrato i primi cittadini del Bastese pochi giorni dopo la conferenza stampa convocata a basso dall'onorevole Fabrizio Di Stefano di Forza Italia per illustrare la risposta ricevuta al question time rivolto al Ministero dell'Ambiente e per annunciare un possibile esposto sulle scelte definite arbitrarie adottate nella perimetrazione. Sì, nell'ambito dell'incontro che il Presidente D'Alfonso ha tenuto con i sindaci del Bastese ho riproposto la necessità e l'urgenza di un incontro proprio con lui al fine di rivedere la perimetrazione portata avanti sinora dal commissario De Dominicis. In quella sede il Presidente si è reso conto che c'è una versione generalizzata sulla perimetrazione, si è preso l'impegno di riconvocarci quanto prima e addirittura ha annunciato la sua volontà di rivedere sia la perimetrazione a terra e perché no introdurre nell'ambito del Parco della Costa Tlatina anche un parco marino, diminuendo, ripeto, la fascia a terra del parco. Noi ci auguriamo intanto che ci riconvochi il prima possibile e si valuterà anche questa possibilità ma di certo questa perimetrazione non può essere portata avanti. Dopo la protesta a Santo Nofrio sui terreni espropriati da Terna nel comune di Lanciano per la realizzazione dell'elettrodotto Villanova-Gissi e i tafferugli tra residenti e tecnici un manifestante è stato denunciato dalla Polizia di Lanciano per resistenza pubblico ufficiale. Intanto è stata annunciata per domani una nuova protesta contro la realizzazione dell'elettrodotto a Paglieta. Immediati gli strascichi della protesta di ieri incontrata a Santo Nofrio a Lanciano con i manifestanti del comitato no elettrodotto che hanno impedito ai tecnici di Terna di entrare in tre terreni per procedere lavori di passaggio dei cavi dell'imponente elettrodotto. Spintoni, malori, provocazioni per la prima volta si sono aggiunti a manifestazioni sempre pacifiche su tutto il territorio. La polizia di Lanciano ha denunciato in procura UB, uomo di 51 anni di Pescara che ha preso appunto parte al sit-in di protesta contro l'elettrodotto Villanova-Gissi. Il pescarese è stato denunciato per i reati di resistenza pubblico ufficiale e il rifiuto di fornire le generalità. Mentre gli agenti della Digo si intervenivano per calmare la contestazione il manifestante si è anche rifiutato di spostare l'auto. Secondo i manifestanti, i tecnici di Terna avrebbero trasformato i terreni delle famiglie Colanero e Del Bello in un vero e proprio campo di battaglia ad esprimere profondo sdegno gli ambientalisti di tutta Italia e soprattutto il coordinamento nazionale no elettrodotti inutili che è intervenuto a difesa degli abruzzesi con una nota due i fronti di guerra incontrata a Santo Onofrio, si legge e nel mezzo le vittime della più meschina tra le provocazioni si è arrivati insomma allo scontro per difendersi. La signora Franca, spintonata e poi vittima di un leggero malore lei è la proprietaria di uno dei terreni in questione accusa i tecnici di Terna di presentarsi in forze a scopo intimidatorio. La gente di Terna che non sta sul decreto è che vengono qua per occupare i terreni e questo io non lo trovo giusto devono venire solo chi sta sul decreto non che si presentano in 10, in 11, in 12 e parlano tutti non va bene se non lo dice nessuno ve lo dico io perché sul decreto ci sta scritto 5-6 persone e ne vengono in più e parlano tutti è quasi intimidare è logico, ci vogliono far mettere paura, paura in tutto due feriti lievi, referti del 118 minacce ed offese che annunciano i sposti ad assistere anche il vice sindaco di Lanciano Pino Valente l'assessore Davide Caporale l'assessore alle politiche della casa Marcello Dovidio la questione insomma rimane aperta due persone indagate per la presenza di farmaci scaduti in un reparto dell'ospedale civile Santo Spirito di Pescara il fascicolo titolare del PM Barbara del Bono è stato aperto dopo i controlli eseguiti nei giorni scorsi dai carabinieri del NAS che hanno accertato la presenza dei medicinali l'ipotesi di reato è la somministrazione di farmaci guasti o imperfetti il controllo eseguito a inizio luglio dai militari del NAS di Pescara che hanno passato al setaccio l'intero nosocomio del capologo adriatico rientra nell'ambito di una serie di accertamenti che i carabinieri hanno avviato nelle strutture sanitarie di tutta la regione ad Avezzano i militari hanno accertato la presenza di farmaci scaduti in diversi reparti 18 sono gli indagati anche all'ospedale dell'Aquila due giorni fa sono stati trovati dei medicinali scaduti i NAS tra l'altro avevano già visitato l'ospedale di Pescara tre settimane fa su segnalazione di alcuni utenti accertando nel reparto di ostetricia e ginecologia delle carenze generiche tra cui la mancanza di zanzariere a Montesilvano il Movimento 5 Stelle critica la giunta Maragno un anno di vuoto cosmico e poi nessun interessamento sui temi importanti della città dalla PRG ai rifiuti in un anno di amministrazione la giunta di Francesco Maragno non ha fatto nulla e questa è la critica che il Movimento 5 Stelle muove all'indirizzo del sindaco di Montesilvano e del suo governo cittadino i dettagli sono stati illustrati in conferenza stampa dal consigliere comunale Manuel Anelli presidente di Commissione Vigilanza tra il 2014 e il 2015 ha detto il referente dei pentastellati l'amministrazione Maragno ha stilato solo 252 deliberi di giunta il confronto con l'amministrazione di Pescara che ne ha fatte 724 è impressionante Anelli poi precisa che la maggior parte delle poche delibere solamente ordinarie amministrazione o grandi promesse rimaste su carta quella messa su da Maragno ha aggiunto Anelli è un'aggiunta che non lavora e quel poco che fa lo fa male oneri di urbanizzazione piano particolareggiato nei pressi di Corso Strasburgo piano regolatore rifiuti non sono stati toccati e sono questi gli argomenti più importanti per l'amministrazione della città sui quali però conclude Anelli l'aggiunta è latitante e visibilmente in ritardo noi abbiamo visto una campagna elettorale nella quale si sono tutti quanti candidati a grandi statisti ma ad oggi dopo 12 mesi di amministrazione non è stato fatto assolutamente nulla le uniche tre vittorie di questa amministrazione sono tre punti programmatici del Movimento 5 Stelle votate e approvate grazie a delle nostre proposte ovvero l'abolizione della SOGET per la riscrizione dei tributi dalla prima rata Tari del 2015 è una nostra vittoria è una nostra proposta ovvero l'impegno per Montesilvano è una nostra opportunità di dare la possibilità ai disoccupati di lavorare per il Comune di Montesilvano è una nostra vittoria e il regolamento per il compostaggio noi abbiamo dato gratis 400 compostiere grazie al nostro regolamento che prevede anche una riduzione della Tari il problema anche di Montesilvano è che le cose proposte le cose approvate vengono lasciate e abbandonate a metà la riduzione della Tari non è stata portata avanti l'amministrazione non ha fatto nulla per ridurre la tassazione dei cittadini anzi abbiamo visto ieri mattina in Commissione di Bilancio che avranno un aumento pari al 10% della tassa dell'anno scorso cioè cosa sta facendo questa amministrazione se non aumentare le tasse e ratificare delle proposte dell'opposizione allora noi ci chiediamo ma non è meglio che lasciano il campo a noi per governare stiamo governando più noi dall'opposizione che loro dalla maggioranza allora noi abbiamo citato Oliver Cromwell quando nel 1600 disse al Parlamento inglese sciogliendolo in nome di Dio andatevene a Ortona l'area di Parco Ciavocco sarà riqualificata con 800.000 euro dell'ecoristoro data marete energia previsti lavori di consolidamento e ripiantumazione un'area vitale un'area vitale della città l'antico e naturale sbocco di Ortona sul mare molto presto sarà riqualificata e resa fruibile si è svolta infatti la cerimonia di consegna dell'area denominata Parco Ciavocco a Tamarete Energia SRL il comune di Ortona ha così dato l'avvio alla messa a disposizione dell'area al fine di avviare i lavori di riqualificazione come previsto dall'accordo sull'eco-ristoro l'intervento si inquadra infatti come onere convenzionale di Tamarete Energia quale compensazione ambientale in seguito alla realizzazione della centrale turbogas incontrata appunto Tamarete così come stabilito dalla legge 800.000 euro l'importo totale dei lavori i lavori appunto prevedono il terrazzamento della scarpata la ripiantumazione il sistema di irrigazione la regimentazione delle acque opere di consolidamento e arredi urbani la città avrà così uno spazio verde che collegherà il centro urbano con il mare l'assessore all'ambiente Luca Menna è un passaggio che la città attende da dieci anni cioè da quando è stato iniziato il percorso di realizzazione della turbogas Tamarete Energia ovviamente la città aveva diritto ad avere un'opera di ristoro ambientale quest'opera consiste nella riqualificazione del parco Ciavocco che costituirà quell'anello di congiunzione tra la città che come sappiamo è un po' più in alto rispetto al mare e il mare stesso perché in effetti oggi questo anello di congiunzione fisicamente manca lavori di riqualificazione del parco Ciavocco che inizieranno nei prossimi mesi e saranno conclusi nel giro di mezzo anno il sindaco Vincenzo Dottavio lavori quando partiranno? ma io penso subito perché ci sono tutti i pareri della sua intendenza e tutti gli enti sono ordinati per cui ecco credo che a breve tempo devono partire la città aspetta questo e ovviamente siamo tutti soddisfatti un'area importantissima anche perché il vero e proprio accesso della città al mare storicamente lì c'era il porto c'era il porto lo scalo vecchio della nostra città e qui stiamo dentro il castello stiamo nell'area più antica della nostra città e quindi questo ristoro ripeto sono tanti soldi l'augurio che ovviamente siano spesi bene che siano spesi anche che i lavori iniziano subito ma soprattutto ridaremo al futuro ovviamente un modo diverso appunto di fare turismo da queste parti A Chieti si è insediato il nuovo prefetto Antonio Corona abruzzese di origine e già prefetto di Lodi Antonio Corona 59 anni nato a Roma ma di origine abruzzese e il nuovo prefetto di Chieti proviene da Lodi dove è stato prefetto al primo incarico dal 30 dicembre 2013 nella sua carriera dal 1982 è stato presso alla presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli Interni lo scorso 6 luglio ho assistito alla seduta di insediamento del Consiglio Comunale di Chieti sono di origine abruzzese quindi mi sento per certi versi a casa anche se casa mia è un po' verso Avezzano ha detto i giornalisti la mia presentazione consiste soltanto in una promessa vera che è il mio impegno sicuramente questa provincia può aspettarsi da me il massimo del mio impegno non so se sarà sufficiente per soddisfare le esigenze di questa provincia ma sicuramente ci sarà tutto le famiglie che magari non hanno risorse comunque non mollano non mollano perché hanno i figli perché hanno il proprio caro la propria cara hanno magari delle persone deboli vulnerabili a proprio carico non mollano sono persone che continuano ad andare avanti noi dobbiamo fare così come una famiglia che non molla di fronte all'avversità riferendosi poi allo staff della prefettura Chietina Corona riferisce di aver trovato personale eccellente ma eccellente sinceramente non solo perché già conoscevo alcuni dei colleghi con i quali ho condiviso degli anni e anche gli inizi di carriera ma anche perché dal primo contatto proprio su questioni pratiche questioni non le pratiche su questioni pratiche ho già trovato una notevole rispondenza una voglia di interloquire e di collaborare questa è sicuramente la miscela vincente la pagina dello sport iniziamo con il ciclismo dopo un anno di assenza torna a Pescara il trofeo Matteotti per la 68esima edizione domenica 19 luglio correranno 17 formazioni professionistiche alla presenza del commissario tecnico Davide Cassani dopo lo stop dell'anno scorso per motivi organizzativi torna quest'anno a Pescara il trofeo Matteotti gara internazionale di ciclismo per professionisti che festeggia la 68esima edizione il trofeo si disputerà sul tradizionale circuito cittadino di Pescara domenica 19 luglio e vedrà ai nastri di partenza 17 formazioni professionistiche una delle novità 2015 rappresentata dalla presenza della nazionale italiana di ciclismo a Pescara sarà presente anche il commissario tecnico Davide Cassani il patrone Renato Ricci ha sottolineato che nell'anno in culio non è ciclistica Fernando Perna festeggia i 60 anni di vita non si poteva non mettere su una manifestazione di grande livello alla conferenza stampa di presentazione all'aurum ha partecipato anche l'assessore regionale allo sport Silvio Paolucci oltre all'assessore comunale Giuliano Diodati e al presidente della provincia di Pescara Antonio Di Marco il Matteotti si correrà sulla distanza di 188 km sul circuito di 14,5 km da ripetere 13 volte 70 anni 1945 ci sono state persone grossissimi organizzatori come Fulvio Perna che ha saputo creare questa creatura e che per 50 anni l'ha portato avanti è sicuramente una cosa molto importante perché è stato veramente un simbolo per Pescara e per l'Abruzzo a livello agonistico il ciclismo andiamo avanti vediamo che cosa succede perché è chiaro che sono stato veramente sollecitato in tutti i modi dal presidente Luciano D'Alfonso il quale veramente ha fatto di tutto per farmi fare il trofeo Matteotti perché lui comunque ci tiene tantissimo a questa manifestazione vediamo adesso alla fine se può essere magari avere qualche cosa in più Calcio di Serie B si impegna il calcio mercato della Virtus con tre acquisti dall'Atalanta breve in rosso-nero arriveranno Andrea Conti Simone Magnaghi e Dudu Mangni l'ufficio stampa intanto è stato affidato a Federica Rugato per sette anni alla Pescara lo slittamento dell'inizio del campionato nel classico effetto domino diluisce anche la preparazione della Virtus che inizierà il ritiro direttamente a Roccaraso il 15 di luglio giorni utili per aggiustare l'organico inserire altre pedine utili alla causa praticamente definito l'arrivo dalla fiorentina del centrocampista classe 95 Leonardo Capezzi con gli ultimi dettagli solo da limare il club rossonero in queste ore è al lavoro per l'ingaggio di un altro centrocampista si tratta di Alberto Grassi dell'Atalanta proprio sull'asse Bergamo-Lanciano potrebbero chiudersi altre trattative con i prestiti dell'attaccante classe 93 Simone Magnaghi la punta esterna Dudu Magni e la conferma del terzino Andrea Conti che ha manifestato la volontà di giocare un altro anno in terra frentana già acquisiti a titolo definitivo invece Federico Di Francesco e Marco Di Benedetto entrambi attaccanti e del difensore Filippo Penna tutti di poco sopra i 20 anni si profila dunque la tendenza del club a ringiovanire la rosa investendo sulla linea verde novità anche nell'organigramma del club con una nota sul sito ufficiale la Virtus rende noto di aver affidato l'incarico di responsabile dell'ufficio stampa Federica Rogato fino a qualche giorno fa detto stampa del Pescara poi non riconfermata dopo sette anni in un vero e proprio minestrone dai colori rosso, nero bianco e azzurro Simone Serrano che per due anni ha ricoperto il ruolo con gentilezza e disponibilità è stato ringraziato da frase di prassi per la professionalità e la passione dimostrate in queste stagioni trascorse insieme secondo alcune voci a lui era stato proposto il ruolo di team manager al fianco di Gici Diomede ma le garanzie non sono state giudicate vantaggiose dall'interessato Simone Serrano se ne va col magone un pizzico di rammarico da parte dei giornalisti la riconoscenza per aver lavorato sempre con grande correttezza ci mancherà il Tg Max termina qui vi ricordo che Tg, servizi e programmi sono anche sul nostro sito internet tgmax.it ci trovate anche al nostro canale YouTube e profili ufficiali dei social network Twitter, Facebook e Google Plus grazie per l'attenzione arrivederci per l'attenzione per l'attenzione per l'attenzione per l'attenzione grazie per l'attenzione Grazie a tutti.